Ho sempre parlato, ho sempre detto che per iniziare a fare fotografia non c'è bisogno di avere per forza la miglior macchina fotografica e questo è vero, perché per chi vuol cominciare può tranquillamente cominciare con il proprio smartphone e mi sono domandato, ma uno smartphone economico può andare bene lo stesso? Vi racconto ciò che mi è successo, mi ha contattato una società cinese che si chiama Doji che praticamente produce una serie di smartphone, quindi è una società che produce smartphone e mi ha proposto di recensire il suo smartphone che era l'X70, questa è la confezione e questo è lo smartphone che c'è all'interno Dall'inizio ho pensato di non fare questa recensione perché non era proprio prettamente legata al mondo della fotografia poi mi sono domandato, io ho sempre utilizzato smartphone molto ma molto costosi, top di gamma e tutti questi smartphone naturalmente hanno dei costi proibitivi per la maggior parte delle persone quindi mi sono detto, ma è possibile riuscire a cominciare a fare la fotografia anche con smartphone così economici? e me lo sono fatto inviare per poterlo recensire dal punto di vista vi elencherò naturalmente quelle che sono le caratteristiche di questo smartphone fino a poi parlare di quello che è l'aspetto che più ci interessa allora io l'unboxing già l'ho fatto perché dovevo naturalmente testare il prodotto abbiamo la confezione, all'interno troviamo lo smartphone adesso vi elenco quelle che sono le specifiche tecniche troviamo sotto naturalmente manuali di istruzioni, un caricabatteria e poi troviamo all'interno una cover in silicone comoda perché essendo uno smartphone che non ha proprio tutto questo gran mercato probabilmente è più comodo trovarla già in bundle ora vediamo lo smartphone in sé lo smartphone non è tanto grande, è un po' pesantuccio il design richiama quelli di praticamente tutti i prodotti che troviamo online cioè tutti i prodotti telefonici del 2018 perché richiama esattamente quello che è il notch che abbiamo ritrovato sull'iPhone X ora, design a parte, lo smartphone ha un costo davvero molto basso infatti su Amazon, e trovate qui sotto il link in descrizione o qui la pagina aperta, costa all'incirca 70€ ma comunque è uno smartphone che ha tutte quelle piccole caratteristiche utili per tutti i giorni poco importa su prodotti di questo genere abbiamo uno schermo da 5,5 pollici con il notch qui sopra che porta il microfono e la fotocamera frontale di cui parleremo a breve e porta questo fascione sotto che è inguardabile però c'è questo fascione sotto troviamo la memoria RAM che è di 2 GB e una memoria interna da 16 GB possiamo metterci due SIM perché è dual SIM troviamo due fotocamere ed è qui che voglio arrivare di cui voglio parlare questo è lo smartphone il software gira abbastanza bene molto pulito non ci sono grosse difficoltà quindi sostanzialmente è uno smartphone talmente economico che lo consiglio a chi ha bisogno di uno smartphone di battaglia da avere in borsa o per una seconda SIM o addirittura per una terza SIM ma ho voluto testarlo sotto il lato fotografico perché porta due fotocamere sul retro entrambe da 8 megapixel e una da 5 megapixel sul fronte mi sono detto normalmente io cammino sempre con il mio smartphone in tasca e quando devo scattare una fotografia tiro fuori lo smartphone sapendo di avere comunque un telefono di fascia un pochino più alta riesco a scattare senza l'utilizzo per forza di una fotocamera una fotografia da utilizzare per i social quindi che sia un selfie che possa essere invece una fotografia da un panorama ad un oggetto o qualsiasi altra cosa i smartphone oggi ci permettono di far tutto ma questo è uno smartphone che ha un costo di 700, 800, 600 euro dipende da quelle che sono le offerte online mentre uno smartphone così economico da 70 euro su Amazon beh, ho detto proviamo, vediamo che cosa tira fuori ora, ho scattato qualche fotografia poi a un certo punto mi sono fermato perché mi sono reso conto dei limiti sì, limiti perché naturalmente sono fotografie scattate solo in JPEG ha una modalità sul sito specifica che c'è la modalità di scatto professionale con la fotocamera c'è la modalità beauty c'è la modalità per l'effetto bokeh si chiama modalità blur ma troviamo un consistente lag nell'utilizzo della macchina fotografica dell'applicazione fotocamera e le fotografie che si scattano sono non voglio dire pessime ma purtroppo ha i suoi difetti i suoi enormi difetti vorrei mostrarvi qualche fotografia senza dovervela mettere a schermo tanto si percepisce comunque le fotografie risultano tutte quante molto sbiadite i toni medi sono praticamente apertissimi e sono completamente grigiastre le fotografie si utilizza l'applicazione standard di Android ma i risultati purtroppo non sono sempre 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 soddisfacenti ad esempio quando sono stato a fare una passeggiata in un campo completamente aperto quindi in un giardino pubblico c'era molto sole la fotografia esce fuori probabilmente lo schermo non è adeguato per mostrarci tanti colori ma è comunque uno schermo che è molto acceso e molto vivido quindi probabilmente le fotografie sono molto decontrastate sono un pochino cupe la gamma dinamica di questo smartphone purtroppo nello scatto non è un granché le fotografie con effetto bokeh purtroppo non vengono benissimo video che è in full HD perché questo smartphone non va oltre io non voglio dilungarmi tantissimo perché non voglio parlare solo del telefonino ma del concetto che c'era dietro questo video si può fare fotografia con lo smartphone economico? no o meglio ci si può cominciare a spratichire ma per ottenere dei risultati comunque abbiamo bisogno che lo strumento sia almeno adeguato a quel che dobbiamo fare quantomeno il minimo non possiamo come diceva un mio carissimo amico non possiamo andare a fare la guerra senza il fucile quindi lo strumento minimo dobbiamo averlo uno smartphone di 70 euro va bene questo modello funziona come smartphone ha un sistema operativo che è un Android Stock tranquillissimo quindi funziona alla grande come telefono come smartphone di battaglia è grandioso come macchina fotografica meno insomma io spero che questo breve video in cui abbiamo parlato di uno smartphone quindi un prodotto completamente diverso su questo canale vi sia piaciuto se avete delle domande vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti io naturalmente vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere questo telefono potete tranquillamente cliccare e vi andate a vedere la scheda tecnica su Amazon se vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cos'altro dirvi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video per la visione di iscrivervi al canale